segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te tolta la la cappa berlusconi si sente che si è usciti dal berlusconismo dicevo e però a proposito lei ha proposto il programma robin hood è vero che per uno è una trasmissione per criticarmi ma non è molto divertente stiamo parlando di giustizia esattamente in tutto questo invece ricchi e dare a chi sta in difficoltà ma robin hood era diciamo toglieva in certa maniera e mi concede una battuta no però invece sulla sostenibilità